ingredienti dosi per 6 persone 500 grammi di farina 200 grammi di spinaci 2 uova un cucchiaio d'olio mezzo litro di sugo 200 grammi di besciamella un tartufo parmigiano grattugiato burro e sale preparazione impastare farina uova olio e gli spinaci lessati tritati finemente e passati al setaccio lavorare l'impasto e tirarlo in sfoglie dividere l'impasto in quadrati lessarli in acqua bollente scolarli e stenderli su un panno imburrare una teglia e mettere a strati i quadrati ricoprire i quadrati con sugo formaggio tartufo a fette besciamella e burro fuso far gratinare in forno e servire il piatto è pronto buon appetito